Oggi dedicherò i minuti dell'antifona a un fatterello del tutto irrilevante, ma istruttivo. L'evasione è il susseguente arresto del Fede Emilio, classe 1931, giornalista, condannato in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione. Storia ridicola quella dell'arresto, oltre il giusto e che tuttavia ha ottenuto l'attenzione nella carta stampata di tutti i telegiornali. Sarà che Emilio è stato un giornalista famoso, ormai forse ex? Sarà che si sta scivolando verso la fine apparente, mi raccomando, del coronavirus? Sarà che non se ne può più di sentire parlare di una montagna di soldi che chissà quando arriverà? Sarà che la ripresa si presenta in salita? Sarà che i sommovimenti all'interno del PD e del governo sono ormai noiosi e ripetitivi come un talent? Sarà che da un pezzo ci mancava che chi può, può. Sarà per tutto questo che un pizzico di dadaismo ci deve essere concesso. E l'Emilio di dadaismo ne ha messi insieme un bel po', a cominciare dalla sua appartenenza al Partito Socialdemocratico, forse unico giornalista in Italia. Poi l'essere passato da Juventino a Milanista che per cambiare squadra di calcio bisogna avere una pietra al posto del cuore. Quindi l'aver spillato guattrine al Berlusconi Silvio tramite il Moralele. In più ha fondato ben due movimenti politici. Il primo nel 2012 si chiamava Vogliamo Vivere. Raccolse qualche minuto di notorietà perché alla presentazione organizzata al Teatro Nuovo di Milano la sala era deserta. Il secondo si chiamava Le Ali della Libertà. L'annuncio l'ha dato sul blog e quindi non si sa quanti hanno aderito, almeno a scaricare il programma. Il suo capolavoro comunque è stata la questione. Rubi l'ha portata a Arcora, poi ha sostenuto di non averla mai conosciuta, ma alcune fotografie l'hanno sbuggiardato. Per il caso Rubi è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi, da scontarsi i 7 mesi ai domiciliari e i 4 anni ai servizi sociali. Poveri servizi sociali. Evidentemente aver scavallato il carcere l'ha tenuto di buon umore, tanto che essendo ancora ai domiciliari ha pensato bene di fare una corsa a Napoli per una pizzata, che proprio non si può fare. Per arrestarlo hanno mandato 5 carabinieri in borghese, che ce n'erano almeno 3 di troppo. In fondo era il ristorante con la moglie per festeggiare il compleanno. Che c'è di male! Ve lo immaginate uno del grattosoglio di Torbella Monaca a farsi una simile gita. I carabinieri l'hanno immediatamente reincarcerato alla suite 514 dell'hotel Santa Lucia. Di meno non ci stava. E lui ha rilasciato prontamente un'intervista, magari pagata, per dire del suo sdegno. Mi hanno trattato come un criminale, pare abbia detto. E la cosa ci sta. Chi commette un crimine, come il favoreggiamento della prostituzione, è per deduzione e per definizione. Un criminale ci sta. Quando nel 2001 la stampa estera mise il naso nelle questioni politiche dello stivale, intervenne con durezza l'Agnelli Giovanni, allora presidente della Fiat, oltre che senatore a vita, detto l'avvocato, sostenendo che l'Italia non era una repubblica delle banane. Già, la repubblica delle banane. Buona settimana e buona fortuna.